Buonasera a tutti, non è nessuno a Radeo, ringrazio la Fondazione della Notte della Taranta per averci voluto qui questa sera, ringrazio tutti voi, siete veniti i bombitori, lasciate lì in casa, grazie! Grazie a tutti! 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 il nuovo entry Michele Simone al tamburello Marco, io lo chiamo Marco Tamburello al violino fermatisi qua con noi dopo qualche anno di lontananza nasce nel nostro gruppo, ha suonato con noi per 5-6 anni poi la forza dopo la mancanza di lavoro, la spinta altrove quindi a Ferrara per chi è nella zona al violino Floriana Stefano il motore del gruppo Nui Nisciuno Nico Imboldi alla Fisarmonica voce e tamburello leader del gruppo Nui Nisciuno di Aradeo Giuliano Conte alle due bellissime voci Alessa Giaci e Leonore di Benedetto ringrazio ancora una volta Giaci Ghirianti Fabio Ghirianti e tutto lo staff della fondazione della nostra trattata grazie a voi grazie a voi che per mancanza di comunori avete usato le mani per applaudirsi grazie davvero grazie a voi 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 buonasera a tutti